Roberta Bianconi, una grande vittoria, straordinaria! Una grande vittoria di squadra soprattutto. Oggi volevamo divertirci, ci siamo divertite e volevamo riscattarci contro l'America, che non riusciamo mai ad avere la meglio e oggi per fortuna non l'abbiamo mai mollata e ce l'abbiamo fatta. In pratica un primo posto nel girone già messo in cassaforte? Sì, non festeggiamo prima perché non vorrei mai che succedesse poi fatta tra, però in teoria sì, siamo felicissimi. Una gara così da dove nasce? Da mesi di lavoro e noi diciamo che abbiamo lavorato per questa partita, pensavamo soltanto al 28 luglio di mezzogiorno, puntavamo a questo e quindi direi che il lavoro paga sempre. Quindi questa è stata diciamo l'arma vincente.